Gli osari, i sacrari, i cimiteri di guerra devono essere quei luoghi dove tutti noi dobbiamo andare a visitare per rendere omaggio a chi ha combattuto per la nostra patria. Come ho detto molte volte, in questi casi non si deve fare retorica, ma ci dobbiamo credere. Senza di loro non saremo qui oggi e non possiamo dimenticarli e devono essere un monito per capire come deve andare il nostro futuro.